Salve, bentrovati, bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale Consiglio Comunale dedicato all'appalto. Rifiuti questa sera, intanto di nuovo in aula, l'assessore Coppa dice affidamento alla giudicataria. Dibattito sull'appalto del servizio di igiene urbana in Consiglio Comunale, toccato all'assessore Pietro Coppa ripercorrere le tappe dell'iter amministrativo dell'appalto che si è intrecciato con quello giudiziario, visti i ricorsi diretti ed incidentali delle ditte partecipanti. Questo di fatto ha determinato un ritardo che non ci ha impedito di aggiudicare l'appalto in maniera definitiva a fine dicembre. La proroga tecnica di GM scade il 28 febbraio e il Tar ci ha imposto di evitarne altre. Andremo quindi all'affidamento alla giudicataria. Per Salvatore Castagnino, la giudicazione della gara in attesa della decisione sul merito prevista il 20 aprile potrebbe creare un danno erariale qualora il Tar dovesse dare un giudizio favorevole alla ricorrente. Castagnino ha poi chiesto la trasmissione degli atti procedurali alla procura della Corte dei Conti. Francesco Zappalai invece ha parlato di argomento non di competenza del Consiglio. Sono quindi intervenuti i consiglieri Giuseppe Assenza che si è detto stupito della mancanza di un parere dell'ufficio legale dell'ente Gaetano Firenze per il quale si corre il serio rischio di un'altra open land e Elio Di Lorenzo per il quale un'aggiudicazione definitiva 40 giorni prima della sentenza del Tar dimostra l'incapacità di questa amministrazione a gestire le problematiche. C'è Tivinci che si è detta preoccupata dai rischi derivanti da una decisione che a questo punto appare obbligata. Alfredo Foti ha invitato l'amministrazione a procedere con cautela e prudenza nell'iter procedurale. Carmen Castelluccio che ha dato atto all'amministrazione di aver fatto una gara che finalmente farà uscire dal regime delle proroghe. Salvo Sorbello ha parlato invece di amministrazione incapace e presuntuosa. Giuseppe Rabito è tornato a chiedere le motivazioni dell'assenza del parere dell'avvocatura comunale, mentre Fortunato Minimo ha applaudito al decisionismo dell'amministrazione. Conclusioni affidate al dirigente del settore Vincenzo Migliore. Iter procedurale corretto allo stato del procedimento ormai definito e alla luce delle indicazioni fornite dall'ANAC e confermate dalla recente sentenza del Tar di Catania. Sull'impossibilità di ricorrere ad ulteriori ordinanze di proroga non si poteva assumere determinazione diversa. Falso ideologico e abuso d'ufficio sono i capi di imputazione a carico di un dirigente e di due funzionari del Comune di Siracusa, tutti rinviati a giudizio. Un dirigente e due funzionari del Comune di Siracusa sono stati rinviati a giudizio. Il giudice per le udienze preliminari, Andrea Mignieco, accogliendo la richiesta avanzata dal PM Tommaso Pagano, ha disposto il giudizio per Rosario Pisana, Rita De Caro e Graziella Zagarella. Per i PM devono rispondere a vario titolo dei reati di falsità ideologica in concorso e abuso d'ufficio in concorso. La procura di Siracusa sostiene nell'accusa contro Pisana, già dirigente del settimo settore politiche e sociali, che su proposta di Zagarella, responsabile dello stesso servizio e di De Caro, funzionario amministrativo, avrebbe adottato la determina dirigenziale con cui veniva impegnata la somma di 51.000 euro per lo svolgimento di attività di supporto a un progetto di natura sociale. In buona sostanza avrebbero estruito il cosiddetto progetto obiettivo, legato alla gestione economica di progetti extra fondi comunali, che i tre funzionari avrebbero imputato nel capitolo di bilancio 2013, denominato Spese per interventi e servizi a favore dell'infanzia, adolescenza e responsabilità familiare. L'ufficio del Pubblico Ministero sostiene che in tempi diversi il dirigente comunale Pisana avrebbe emesso sette determine di liquidazione per prestazioni di lavoro straordinario tra il 5 marzo e il 2 ottobre 2014 a favore di De Caro e di altri 22 dipendenti comunali, tutti impiegati nel settore politiche e sociali e di altri due impiegati nel settore servizi finanziari. L'antico mercato d'Ortigia, lo scopo è quello di trasformarlo in un centro culturale polifunzionale che entri anche nel circolo culturale del turismo in città. Nuova direzione per quanto riguarda i mercati storici in città, con particolare attenzione all'antico mercato d'Ortigia. Questa mattina è un incontro nella sede dell'assessorato e le attività produttive tra amministrazione comunale e tutti i soggetti in causa, a partire dalle associazioni di categoria e dalle guide. La struttura di via Trieste dovrebbe trasformarsi in una vetrina d'eccellenza per i turisti e che contenga anche un infopoint multifunzionale. Alcune parti dello stabile potrebbero essere riutilizzate dando loro una nuova valenza. I box e le aree all'interno del mercato dovrebbero essere affidati a produttori ed artigiani per una coesistenza virtuosa che risollevi le sorti economiche dell'isola. In tal senso le guide turistiche potrebbero fare la loro parte inserendo il luogo nei percorsi di conoscenza e di accoglienza. La rubrica, la spina del fianco, prove elettorali per le regionali, le provinciali e comunali, ma sono tante le incognite. Le male lingue insistono sulle ultime notizie politiche che riportano al passaggio di un possibile riavvicinamento tra Gino Fote e Giancarlo Garozzo attraverso l'ambasciatore Giovanni Caffeo. È cominciato il conto alla rovescia verso la tornata elettorale per le regionali e in contemporanea seguire per le provinciali, dove le vecchie province ritornano ad essere governate dagli eletti dal popolo e subito dopo per le comunali. I cittadini saranno impegnati nella sequenza descritta nell'intera provincia, ma l'attenzione più grossa rimane per il rinnovo del Consiglio Comunale e l'elezione del nuovo sindaco del capologo, dove i siracusani saranno chiamati alle urne dopo un periodo nero della politica, tutta interna nel PD, dove si sta cercando di riallacciare un'alleanza interna. Rimane ferma la temuta ascesa dei 5 Stelle e per dare una lezione di credibilità e di correttezza con gli elettori al PD siracusano. La constatazione è che i pentastellati nell'area politica siciliana hanno sparigliato i giochi e palese senza mai lasciare le luci della ribalta ad altri, ma secondo i sondaggi il centrodestra avanza in silenzio. Per le regionali la lotta nei giochi vede la punta di diamante nella conquista di appannaggi apparentamenti in Pippo Sorbello. Confermate nelle rispettive posizioni di Enzo Vinciullo e Pippo Genuso, anche se orfani ambedue dei vecchi buoni casati, nel PD scontata la conferma per Bruno Marziano e Giovanni Caffeo. Magistratura permettendo per il gruppo fotiano, ma si fa il nome del nipote preferito del vecchio ginone, Alfredo Foti, con una scelta diversa per Caffeo. Conferma la sua candidatura Gian Battista Coltraro. Ritorna nel confronto anche Franco Zappalà, con una lista che raccoglie diversi cespugli. Conferma per Edi Bandiera. I 5 Stelle non fanno nomi, ma lasciano al web la scelta attraverso le primarie, mentre per il resto la ricerca degli equilibri farà la differenza. Per le provinciali lo scenario è ancora buio, ma già sono cominciate le manovre di avvicinamento. In casa siracusana la lotta per il Evermexio è sempre sotterranea, ma il fallimento politico-amministrativo per l'abbandono della città-capoluogo governa la scena in tutti i sensi, nella gestione dei rifiuti della raccolta differenziata che a Siracusa è ferma percentuali imbarazzanti. La situazione in cui versa la gestione del servizio idrico e nel generale si amministra con le difficoltà per la presenza delle fastidiose inchieste ancora aperte e la cattiva manovra per riaffidare le strisce blu e i parcheggi ai privati. Sono già al lavoro i tanti candidati a sindaco nella città di Archimede, con Simona Princiotta seguita da Ezechia Paolo Reale e dall'avvocato Massimo Milazzo, molto quotato in diversi ambienti della politica sia in quelli giudiziari, mentre Francesco Etale è sponsorizzato direttamente da Giancarlo Garozzo, dove di rimbalzo per lui Renzi avrebbe riservato uno scranno montecitorio al Senato, almeno così si dice. Anche Alfredo Foti è indicato strategicamente al momento candidato a primo cittadino al Vermexio. Stessa cosa per Enzo Vinciullo, con il pensiero sia alla regione sia al Vermexio, dove ovviamente l'opzione dipende dal risultato alle regionali. Gaetano Perne è il candidato sindaco dell'area della porzione residua della destra ed intorni siracusana, ma tra i pezzi pregiati del risico elettorale per il posto di primo cittadino di Siracusa sotto le manovre dei poteri forti insiste il nome di un alto magistrato in pensione, che appare in testa ai papabili. Il Gup Mignieco ha disposto la perizia psichiatrica per i due responsabili del 90enne priolese Sebastiano Liottasio. Perizia psichiatrica per i due imputati dell'omicidio di Sebastiano Liottasio, il 93enne priolese trovato morto il 22 settembre dai congiunti, che si erano recati nella sua abitazione, preoccupati perché non apriva la porta. Il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Siracusa, Andrea Mignieco, ha disposto la perizia affidando l'incarico a un consulente, fissando al 4 aprile la nuova udienza nella quale depositare l'esito della perizia psichiatrica. Il Gup del Tribunale di Siracusa ha accolto una specifica richiesta avanzata dai legali di Angelo Sferrazzo, che dal mese di settembre si trova detenuto nel caccere di Rebibbia a Roma e Francesco Garofalo. Il consulente dovrà verificare le capacità di intendere di volere di Garofalo. Nel caso di Sferrazzo invece dovrà valutare se esistano malattie tali da comportare una perizia psichiatrica. La difesa di Sferrazzo si fa forte di un certificato rilasciato dal medico curante, con cui gli è stato prescritto un farmaco calmante, che l'uomo ha preso 5 giorni prima di fare irruzione nell'abitazione della vittima. La difesa quindi ha chiesto se quel farmaco avrebbe potuto incidere sulle capacità di intendere di volere dell'imputato. L'ufficio del pubblico ministero è rappresentato dal sostituto procuratore Margherita Brianese, che ha coordinato le indagini, portate a termine dagli agenti della squadra mobile insieme con quelli del commissariato di Priolo. Il fatto di sangue è avvenuto intorno a luna della notte. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due avevano preso di mira l'abitazione del 93enne in via Gargallo, mentre Sferrazzo è rimasto fuori a fungere da palo. Garofalo, dal fisico asciutto e atletico, è penetrato all'interno dell'appartamento, sito al pianterreno, attraverso una finestra laterale. L'interrogativo su cosa sia accaduto dentro quella casa non è stato ancora stabilito con certezza. Legalità in provincia. Questa mattina un incontro alla CGL. Intanto Solarino e Floridia alzano la testa. Se tornate a parlare di delinquenza, di criminalità organizzata sul territorio siracusano, in particolare Solarino e Floridia, in queste ultime settimane c'è stata una certa recrudescenza. Cosa state pensando di fare? L'iniziativa di venerdì nasce dal bisogno avvertito dalla CGL, in modo particolare dai territori di Floridia e Solarino, di fare il punto su un fenomeno che comincia ad essere sempre più invasivo nel nostro territorio. Il bisogno di un recupero di legalità nella nostra comunità è fortemente avvertito e recuperare la legalità significa riavviare i processi di cittadinanza che si sono profondamente logorati in questo periodo. L'occasione di venerdì è di mettere insieme voci diverse su questo tema perché come organizzazione sindacale abbiamo acceso un faro su questo tema che mette insieme rispetto, legalità, capacità di vivere insieme all'interno di norme condivise perché riteniamo che sia l'unico elemento su cui fare leva per ripartire in termini di produttività, di civiltà e di modo nuovo di stare insieme che questo territorio richiede con urgenza. Porto di Augusta sono state smentite le notizie relative al rischio di perdere il finanziamento europeo parliamo di 200 milioni di euro. Dei 200 milioni complessivi di investimento a rischio dalla precedente estate gran parte sono stati confermati evitando ricadute per il Porto di Augusta. La Commissione europea ha confermato per fortuna gran parte delle risorse previste su Augusta con i fondi PON a quota europea 67 milioni. Dalle notizie aggiornate acquisite al Ministero per le Infrastrutture e Trasporti rischiano infatti di essere cancellati 13 milioni e mezzo di euro previsti originariamente per l'allargamento del piazzale mentre vengono confermati gli investimenti previsti per il lotto 2-3 relative alla realizzazione del terminal container e al consolidamento delle banchine. La motivazione adotta dalla Commissione europea e a quanto risulta condivisa dal Ministero è che un ampliamento dei piazzali non è giustificato dall'attuale attività e dalla stessa previsione futura. E' mia convinzione, dice il deputato Pippo Zappulla, che nessun euro di finanziamento deve andare disperso per il Porto di Augusta. Zappulla ha chiesto al Ministro del Rio di sostenere le ragioni di Augusta e in ogni caso di non consentire la cancellazione delle risorse. Qualora permanesse la posizione della Commissione europea sull'ampliamento dei piazzali si potrebbero rimodulare gli stessi fondi per interventi sulla diga foranea e per l'allacciamento e il collegamento con la ferrovia. Anche la parlamentare siracusana Sofia Moddio conferma che il finanziamento europeo PON Reti e Mobilità relativo al potenziamento del porto commerciale di Augusta ammonta in totale 67 milioni di euro. Quindi è impensabile immaginare una riduzione di 200 milioni. Piuttosto prosegue a Moddio la notizia è che la Commissione europea ha chiesto al MIT una ridefinizione del progetto. Tale ridefinizione, recepita dal Ministero, prevede che i finanziamenti vengano concentrati sull'ammodernamento della banchina esistente e sul nuovo terminal container. Il presidente della circoscrizione cassibile, Paolo Romano, rilancia l'appello ma anche la richiesta di proclamare lo stato di calamità per le aziende agricole e che ricadono nel territorio cassibile. Mentre tre parlamentari regionali siracusani hanno chiesto lo stato di calamità naturale a causa dei danni provocati dal maltempo nei giorni scorsi in molte imprese agricole e ortofrutticole, il presidente della circoscrizione cassibile, Paolo Romano, chiede al sindaco Garozzo notizie sullo stato di calamità ha chiesto quattro mesi addietro. Il 24 e 25 settembre, dice Romano, il nostro territorio è stato interessato da abbondanti e persistenti piogge con violenti nubi fragi provocando notevoli danni a infrastrutture, fabbricati, attività commerciali, artigianali e ricettive nonché al settore agricolo. Tutto ciò fece scaturire la seduta straordinaria del Consiglio Comunale e l'invio alla Regione Siciliana del riconoscimento dello stato di calamità. Ad oggi, dice Romano, non si hanno più notizie del procedimento e allo stato attuale, dove prima il gelo ed ora le ulteriori abbondanti piogge aggravano una situazione già di per sé fortemente critica, è necessario intervenire per definire la questione. Una faccenda delicata e importante che merita di essere seguita con scrupolo e sacrificio. Quanto meno abbiamo il dovere di dare le obbligatorie e legittime risposte ai nostri concittadini, dice ancora Romano. Da queste considerazioni la richiesta al sindaco di adottare tutte le misure necessarie per sollecitare la definizione della pratica nelle sedi competenti. Un incontro, un appuntamento prima di chiudere. Iniziano oggi gli incontri formativi organizzati dall'Associazione Culturale Igea Polis. La conferenza dal titolo Psico-Igienismo, Ortotrofia e Agricoltura Biodinamica partirà alle 17.30 nella Sala Multimediale dei Beni Culturali in Via Brenta, qui a Siracusa. Ed è tutto, il Te Giornale così si conclude. vi auguriamo un buon proseguimento di programma. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS a cura di QTSS Grazie a tutti.